salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente inauguriamo questa bellissima nuova stagione 2024 con un bel itinerario su montevergine itinerario e per chi non lo sa sa essere molto panoramico infatti spesso viene chiamato lo stervio campano perché non susseguirsi diretti linee tornanti siccome non sono stato bene ragazzi dobbiamo cercare di inaugurare adesso questa stagione il migliore dei modi con questo bel itinerario panoramico e ci fermeremo pure al santuario di montevergine nel caso mi faccio fare una grande benedizione perché è proprio il caso siamo usciti ad avellino ovest per mercogliano adesso stiamo seguendo le indicazioni per il santuario di montevergine a tantissimo tempo non vedevo l'ora di fare questo itinerario era un bel po che ci volevo tornare però non c'era mai l'occasione adatta e praticamente quando sono capitate le migliori giornate io ero a letto con febbre tra cheite chi più ne ha più ne metta se adesso anche se non è la giornata ideale per chi fa un freddo cane tiravento non posso esimermi dal portare la piccola tre di sera montevergine mi mancava proprio questo posto sinceramente l'ultima volta ci sono stato con la 07 e quindi dobbiamo battezzare anche la tracer sperando di non prendere acqua seguiamo le indicazioni per montevergine si sa pitch sta faccia cerchiamo di non ammazzarci e di goderci il panorama tanto max si stava perdendo la zavorrina in una curva speriamo di non ecchiappare pullman davanti ma ma io sono stati proprio giorni bruttissimi a dover stare nel letto con i malanni mentre fuori c'era un tempo estivo intanto non sto azzeccando un tornante ti sto sbagliando quasi tutti e panorama attira un vento veramente notevole qua la ricordava un po meglio sta strada l'ultima volta che la feci non era così un inizio di stagione motociclistica un po atipico nel senso che siamo quasi a maggio praticamente il clima non è proprio primaverile va diciamo così anzi fa molto freddo non saprei sperando non sia una stagione fredda in generale sto pianificando un bel viaggetto estivo far rovinare questo bel viaggio da un clima non ideale sinceramente non mi fa impazzire come idea dovremmo esserci quasi qui mi ricordo che l'ultima volta che venni c'era tanto di quel traffico che non si camminava mamma mia non me la ricordavo così stretta sinceramente io non ho seccato un tornante all'altra parte ma non ha seccato un tornante l'angolo per sbaglio vogliamo far partire il garello a un certo punto infatti ho fatto così ma non ha voluto far partire era una strada di merda proprio per farlo c'è io ho la ruota che ogni curva la prima curva tutto bene lei secondo me è rigida perché non la sento perché non pesa niente quindi non capisco che movimenti fa e poi butto io ho visto lei vabbè allora le fa pure lei le curve riportando un attimo io no siamo adesso qui e poi dopo saliamo secondo me la cosa migliore anche perché c'è un bel panorama facciamo si è figo si arriva tutti noi le buttiamo le buttiamo di là in là ho visto un po' di posti quello che la regola vanno sopra però quanto tempo sorti tanto non è che ci stanno un po' di fare qualche foto a una sigaretta sopra ovviamente qua sopra ma vuoi lasciare qua perché non è che ci va andata male eh infatti non ce l'abbiamo messa qua perché la macchina a triangolo ancora non parte ma pure si vaga un euro a mo va bene ok con una media di 4 gradi adesso andiamo a vedere un pochettino che si dice a campo maggiore che sarebbe qua sopra sperando di non arrecettarci nei tornanti c'è dovrebbe essere un altro che è così proprio ripido ah che spettacolo speriamo di non arrecettarci stiamo un po' attenti c'è giusto un pelo di umidità giustamente per uno che è appena guarito da innumerevoli malanni ci voleva questo clima così accogliente ah che spettacolo altro che stagione 2024 ma c'era un albero spezzato ma hai visto quei rami spezzati stavano tre alberi proprio spezzati vediamo se arriviamo alla fine che bello cioè è brutto ma bello mamma mia ansia vediamo se ce la faccio che bello però è bellissimo non si vede niente è bellissimo deve fare la foto qua arriva in sotto gli altri eeeh dopo risalendola facciamo c'è caldo strano fa caldo 4 gradi Marco 4 gradi urge una polentina però quasi quasi tolgo il traction eh scopero abbiamo fatto due fotine ammai com'è bella la trese mannaccia che dire signori soprattutto che moto diciamo che questa è stata una scelta vincente un itinerario vincente grazie Marco 4 gradi ma ora si sta prendendo però ma ora si continua per scendere no no dobbiamo tornare indietro dobbiamo tornare indietro è quella strada brutta con tutti i rami a terra in salita in salita ok adesso si ritorna tra virgolette su per poi scendere verso Mercogliano per cercare un posticino dove mangiare qualcosa di tipico tipo qualcosa con i funghi una bella polentina fa abbastanza freddo infatti la copro sta soffrendo un pochettino se il filmato si interrompe sapete perché cercando di non cadere a culo a terra selezioniamo magari la traiettoria più pulita o meglio la meno sporca per il meme questo è l'antipasto dell'antipasto sempre per il meme giusto per gradire eccoci qua rimessi in sella rimessi in viaggio dopo un ricco pranzo veramente notevole e abbiamo mangiato un antipasto e dei primi veramente spettacolari io ho preso una bella Genoese e adesso stiamo rientrando finalmente in zona Napoli anche se stiamo ancora a mercogliano in questo momento finalmente è uscito anche un po' di sole se fosse uscito prima sarebbe stato anche meglio perché stamattina con 4 gradi ci siamo un po' puzzati di freddo siamo fatti tutta questa parte superiore di Campomaggiore con questa atmosfera un po' creepy un po' horror tra l'altro notevole a questo ristorante anche il vino della casa finalmente le giornate si allungano ci possiamo godere qualche ora di luce in più ragazzoli comunque io direi che per questo video è tutto se questo video vi è piaciuto ovviamente mettete like iscrivetevi al canale e commentate ditemi qual è stata la vostra prima uscita di questa stagione 2024 fatemi conoscere nuovi itinerari da fare e sicuramente ovviamente noi ci vedremo presto presto in Abruzzo già ho qualche iscritto qualche amico della zona che non vede l'ora di organizzare e sicuramente organizzeremo qualcosa e comunque sia noi ci vediamo al prossimo video da sottoscritto e da Max e dalle tue zavorine buona stagione motociclistica 2024 a tutti ciao buona stagione Grazie a tutti.